Borgata Costiera 2.0, risalta in colorata armonia, questa sera Borgata Costiera vi vedrà ad andare in scena uno spettacolo meraviglioso e bellissimo, presentato Miriam e Norris di Massara del Ballo. E sì, questa sera ti aspettiamo tutti quanti, puntuali alle 21 per passare una serata, come dice e come recita lo slogan, in armonia e in colorata armonia perché avremo tantissimi ospiti, alcuni famosi come Gianni Nanfa, maestro della comicità e professore della comicità siciliana, ma intervallati anche da momenti musicali e da esibizioni canore e di danza, insomma, una serata veramente molto ricca e allegra. Promotore invece della serata, Francesco Foggia, consigliere comunale di Massara del Ballo, una serata che percorre anche quella già fatta l'anno scorso, quindi una continuazione del lavoro già svolto. Sì, diciamo, soprattutto che dopo Borgata in Festa, che ha avuto un grande successo, quest'anno abbiamo pensato al BIS, infatti abbiamo intitolato la serata Borgata Costiera 2.0, grata armonia. 2.0 perché sappiamo tutti che il mondo del web è una fase innovativa, anche questo sarà diciamo il punto cruciale, abbiamo creato un sito per quanto riguarda Borgata Costiera 2.0 e non so, siamo stati più rappresentanti nel mondo Instagram, ci saranno dei concorsi che saranno pure premiati in una serata, abbiamo qui vicino la bellissima Maria Anno Tito, che l'ho voluta qui presente, sto presente nella serata perché sarà il ballo raggiunto insieme a tanti altri artisti del cabaret siciliano. Abbiamo proprio la picca del cabaret siciliano, come il grande maestro Gianni Namfa, Alessandro Gandolfo, che l'anima diciamo perché l'ho voluto io, perché è stato quello che l'ho portato il primo evento qui a Costiera e quindi mi ricordo diciamo le origini della prima prestazione che ho fatto qui. Naturalmente Costiera sarà teatro ad una serata di fondamentale importanza e sono convinto che la serata andrà a letto fine perché alla fine sicuramente garantiremo un sorriso a ogni cittadino mazzarese che comunque vuole partecipare.